La Corte di Cassazione ha annullato per eccesso di giurisdizione la sentenza del Consiglio di Stato che aveva bocciato la proroga al 2033 delle concessioni balneari, fissando la scadenza per le aste al 31 dicembre di quest'anno. La decisione degli ermellini è stata presa però esclusivamente per i termini procedurali, senza entrare nel merito della legittimità delle prologhe. In sostanza la Cassazione ha colto ricorso dell'Associazione Sibconf Commercio e della Regione Abruzzo che erano state escluse dal Consiglio di Stato ma omesso di pronunciarsi sulle questioni più stringenti poste dai ricorrenti. La palla torna dunque al Consiglio di Stato che dovrà tornare ad esprimersi, ammettendo però le parti escluse e potrebbe farlo contraddicendo se stesso oppure arrivando alle stesse conclusioni che hanno portato ad annullare la proroga delle concessioni balneari. Per i concessionari si tratta dunque di una vittoria importante ma non definitiva. La vicenda balneare con questa sentenza ha un'importante svolta, ha commentato la presidente regionale di Sibconf Commercio Stefania Frandi. La sua soluzione come sempre riteniamo che spetti al Parlamento e non ai giudici e con questa sentenza della Corte di Cassazione si stigmatizza l'abuso del Consiglio di Stato e si effettua un richiamo al rispetto delle prerogative del Parlamento. Spetterà dunque a Governo e Parlamento risolvere la questione in maniera definitiva, applicare la legge attraverso i decreti attuativi oppure abrogarla mantenendo le promesse di escludere le attuali imprese balneari dalle gare.